Si infrange in finale il sogno di Giulio Zepieri di vincere il secondo torneo consecutivo, ma può consolarsi con il suo nuovo best ranking. Per tenista di Latina, domenica, dopo la vittoria al challenger di Sheauburg, sfuma il bis al challenger di Rovereto, sconfitto per 7-6, 6-2 dallo svizzero Dominic Strieker. Nel giro di due settimane il tenista pontino ha vinto 9 partite su 10, arrivando ad un passo dai top 100 ATP, risultati che accelerano la scalata in classifica di Zepieri, che di fatto sale alla posizione numero 115 con 481 punti, una conferma del salto di qualità compiuto nell'ultimo periodo. Queste due settimane per me sono state molto molto importanti, con il mio domo team stiamo lavorando molto bene e finalmente già si iniziano a vedere i frutti del buon lavoro che abbiamo fatto quest'inverno, quindi sono molto contento, devo ringraziare tutti. Ora concentriamoci sul prossimo torneo su Lugano e poi cominciamo a preparare la statuena sulla terra.